Siamo in giro per Più Libri Più Liberi 2018, come da tradizione, siamo tornati allo stand di Surre, siamo in compagnia di Juan Cardenas che ha scritto Ornamento. Juan, benvenuto a Più Libri Più Liberi. Grazie. Senti, come nasce questo libro? Qual è stata l'ispirazione per questo romanzo? Diciamo ispirazione poca ma lavoro molto e questo lavoro è consistito nel pensare a dei quesiti che mi ossessionano da un sacco di tempo, in particolare le relazioni tra il corpo, la droga, il mercato e tutti questi elementi che mi sembra che abbiano il loro campo di battaglia nella sensibilità e quindi indagare proprio questo tipo di relazioni. Come ti stai trovando a questa fiera? Sei riuscito a fare un giro? Sei riuscito a vedere un po' che aria si respira? Direi che si respira l'aria migliore possibile, sono appena tornato da un piccolo giro per l'Italia e devo dire che è stata proprio una bella esperienza e sono anche molto contento di aver concluso qui alla fiera. Ringraziamo Juan Cardenas e il suo Ornamento pubblicato da Surre, vi invitiamo a passare allo stand naturalmente e a farvi largo fra tutte le persone che stanno affollando i corridoi della fiera per aggiudicarvi questo libro e questa riflessione. Grazie mille Juan. Grazie a te.